In ricordo dei carabinieri e dei militari che persero la vita nell'attentato di Nasiria il 12 novembre del 2003, nel Palazzo del Consiglio regionale della Campania sono stati consegnati riconoscimenti a esponenti dell'arma dei carabinieri e dell'esercito che si sono distinti nello svolgimento del loro compito. Alla cerimonia anche alcuni familiari dei militari che persero la vita in Iraq a Nasiria. Tra i premiati, tra gli altri, un gruppo di carabinieri di Castello di Cisterna intervenuti in una scuola a seguito di una richiesta di soccorso consentendo così di salvare la vita di una bambina che aveva perso i sensi. E poi il caporal maggiore Giuseppe De Rosa al momento in missione all'estero che lo scorso luglio fuori dal servizio ha salvato la vita di un adulto e tre bambini in difficoltà nel mare di Mondragone. Ai nostri microfoni il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero. Quest'anno, come sempre, premiamo sia i militari dei carabinieri che dell'esercito che si sono distinti nella loro attività a sostegno, a favore delle popolazioni della nostra regione. Chiaramente questa è un'iniziativa che ormai dura da tantissimi anni, che ripeteremo anche per il futuro in memoria dei caduti di Nasiria. Intanto questa sala è proprio intestata ai caduti di Nasiria. In nome loro facciamone ricordare i nostri caduti, premiamo quanti sono distinti nell'esercizio del loro dovere.